eccoci tornate ad half life siamo mezzi morti non abbiamo armi cioè abbiamo le armi non abbiamo le pallottole abbiamo questo questo saliamo su questo è questo buono 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 finalmente ciao amico manderò il carro a prenderti fratello ok solo un momento ok pazienza fratello pazienza io so che pazienza ci vuole cosa stai attento lo so che pazienza ci vuole salviamoci il culo mi schiacciò la lega ha detto lui che la mandava la porca potregna maledetta che schifosa potregna maledetta assassina scatenata dov'è quel coso sì ci sono polpi e cibi al rosso no vai mi sta prendendo oggi siamo quasi è veloce ora fratello salta sul carro il freno a mano fratello il freno a mano per cambiare il freno a mano ehi go faccia faccia salve fratella e così ci incontriamo finalmente lode a te per aver evitato le mie trappole il lavoro di un uomo che una volta aveva troppo tempo a disposizione e ora ha solo il tempo di lavorare per la salvezza bravo penso che tu non abbia molta voglia di rimanere a ravenholm perciò ti mostro la via per le miniere andiamo alle miniere un pastore deve prendersi cura del suo grege ok specialmente quando diventa indisciplinato va bene ti seguo dai seguimi fratello ok vai cammina con leggerezza con leggerezza questa terra è sacra certo con leggerezza o cacchio se cammina con leggerezza cacchio se cammino con leggerezza scusa me scusi mister G ah scusa scuderemo un po' distratti dal cantare dai andiamo arriverò arrivano dammi vicino fratello ok amico vai ti ha brutto posto? che schifo di posto perchè? ah c'è lui ok ah vabbè questi sono venite venite da me venite vai vai come on problemi c'è l'altro lo vedo conforto per il tuo dolore figliolo si amen amen padre amen non penso male di te venite venite alla luce che porto venite mi dice la luce prudenza fratello potenza potenza vada come la gas scassamento di scatole ho perchè me la lagga sempre vada come la gas ma una vada come la gas vada come la gas ma una vada come la gas Vieni, vieni ragazzo, dai vieni che accende il fuoco tutto per voi. Attento! Cosa? La luce delle luci sia con te. Seguimi. Ok dai, dove? Veloce fratello. Sono veloce vai. Avanti! La morte non ti riserva nulla di peggio. Ragazzo, ti muovi. Ok, siamo arrivati qua. Chiudiamo il video. E... Da me, tra i potenti ozzi, Mr. G, ciao ciao!